Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books Io sono Tiffany e oggi siamo alla seconda puntata della mia rubrica su come leggere in maniera più critica Oggi parliamo di trama, scrittura ed esposizione che è un argomento molto difficile, soprattutto da scrivere per poi parlarne davanti a un video senza competenze però insomma visto che la prima puntata in qualche modo non so come vi è piaciuta però siamo qua ovviamente per parlare di aspetti un po' più tecnici, un po' più tangibili un po' più insomma pratici che possano esservi utile come già vi avevo detto nel video precedente importantissimo è munirsi di matita, biro, quello che volete a chi sul kindle per direttamente le note per prendere appunti perché è un processo davvero molto utile quando leggete volete un po' migliorare il vostro approccio critico al testo però bando alle ciance direi che oggi è arrivato il momento di iniziare a parlare di cose pratiche se no poi avete tutto l'interesse nel mandarmi a spendere leggere, comprendere, analizzare, interpretare e contestualizzare il testo sono le azioni che intraprende il nostro cervello durante la lettura soprattutto quando leggiamo in una maniera un po' più analitica, un po' più critica e oggi parliamo proprio di aspetti legati alla scrittura, alla trama e alla sua esposizione parto dicendo che fondamentalmente in nessun testo esiste una storia sbagliata o una storia giusta esistono però modi pessimi o modi molto giusti per organizzare il testo per organizzare gli avvenimenti, il messaggio e il tema che quello che stiamo leggendo ci vuole comunicare però esistono chiaramente dei modi pessimi per organizzare la struttura con il quale questa storia ci viene esposta come ne esistono ovviamente di modi molto più efficaci e molto più giusti gli avvenimenti, il messaggio, il tema per esporre questa storia e volendo ci sono anche modi per mantenersi nelle regole della scrittura come invece modi pessimi per scardinarle e gettare tutto al vento diciamo che una storia può essere raccontata in infiniti modi però solo alcuni risultano efficaci, solo alcuni risultano appassionanti per il lettore e corretti grammaticalmente, corretti dal punto di vista sintattico e linguistico togliamoci subito un sassolino, questo lo devo alla mia maestra degli elementari la grammatica non è un'opinione, lo ripeterò in continuazione in questo video c'è un margine di spazio nel quale tutti ci possiamo muovere non è che è talmente rigida che se non fai A, B, C tutto è sbagliato il margine è un po' più ampio e ci si può muovere all'interno proprio di questo spazio oppure ci sono metodi narrativi che sono volti totalmente a scardinare le regole grammaticali, le regole sintattiche, le regole linguistiche e hanno un intento molto lampante che il lettore percepisce immediatamente ma se ciò che stiamo leggendo non rientra nella categoria degli esperimenti audaci risultano solo dei gravi errori e visto che non tutti sono Dante ci vuole un po' di umiltà nella vita ma soprattutto onestà quando si scrive un libro e io l'onestà intellettuale nell'ammettere i propri errori l'apprezzo sempre non c'è nulla di male nello sbagliare c'è solo un intento diabolico nel perseverare nel sostenere questi errori e nel mascherarli quando si scrive un libro ma anche quando noi lo leggiamo, noi lettori che lo leggiamo al di là degli aspetti di punteggiatura, il punto, la virgola insomma noi lettori possiamo comunque soffermarci su tanti altri aspetti e possiamo porre la nostra attenzione durante la lettura su questi poi dopo ci sarà un appunto in ultimo sulla scrittura che secondo me bisogna fare ovviamente però ci sono aspetti grammaticali sintattici che non sono opinabili, non sono contestabili un po' come la matematica anche io ero convinta che la tabellina del 5 fosse l'ultima tabellina ciò non significa che lo sia noi lettori proprio possiamo fare attenzione a tanti aspetti bisogna tenere d'occhio il lessico che viene utilizzato qual è il registro che questo lessico conferisce al testo spesso ci sono tantissimi sinonimi per dire la stessa parola non tutti però sono sullo stesso piano la sintassi ovvero come vengono costruite le frasi come vengono impostati i periodi per esempio se nelle singole frasi vengono usate oppure totalmente evitate le inversioni dando loro l'ordine usuale soggetto, verbo, complementi e quant'altro oppure nei periodi quando vengono come vengono ordinate le frasi se c'è la frase principale poi le subordinate oppure le coordinate oppure se prima si invertono questi ordini e la frase principale è solo in fondo è il punto centrale cosa succede? come viene impostata la scrittura di un testo? e proprio riguardo alla parola che sceglie di utilizzare il narratore quindi il nostro autore o la nostra autrice noi possiamo dedurre diverse cose il significato di una singola parola è sempre quello esplicito quello immediato che il lettore percepisce oppure ha anche un significato più nascosto un significato duplice una parola può significare chiaramente qualcosa di manifesto ma anche sottintendere molto altro avere dei riferimenti ad altre opere eccetera eccetera noi lettori poi possiamo notare le figure retoriche le metafore e i paragoni che vengono utilizzati dagli scrittori durante la narrazione e se questi fanno parte dello stile stesso oppure se sono magari inseriti in contesti molto precisi perché hanno determinati significati faccio un esempio pratico ci sono stili di scrittura che utilizzano costantemente figure retoriche perché sono parte integrante proprio dello stile stesso un esempio che mi viene in mente è Lainey Taylor invece ci sono altri scrittori che hanno uno stile molto più lineare molto più asciutto ma che quando inseriscono una figura retorica un paragone, una metafora è estremamente sottile coglierne il significato oppure ha un significato talmente preciso che per il lettore è lampante cioè insomma ci sono stili davvero tanto diversi passando oltre un po' la parte grammaticale che spero sia un po' la base su cui tutti poggiamo spero che sia abbastanza lampante quando ci sono errori e lo stile chiaramente è qualcosa di un po' più personale però chiaramente ci sono regole alle quali lo stile deve aderire altrimenti ha dei problemi su questo siamo tutti d'accordo spero invece quando passiamo alla trama e alla sua esposizione parliamo della vicenda che ci viene narrata e che viene presentata a noi lettori perché fondamentalmente ciò che leggiamo è come se ci venisse presentato va analizzata nella sua struttura e nel suo sviluppo deve avere uno sviluppo logico perché chiaramente non conta che siamo nel fantasy non conta se stiamo leggendo di un sogno anche i momenti proprio più deliranti hanno sempre una logica perché l'essere umano è prevedibile come poche cose al mondo e quindi purtroppo gli avvenimenti devono comunque poggiare su una base logica poi possono avere degli elementi fantastici degli elementi onirici degli elementi di follia quello che volete però comunque devono avere una conseguenzialità che segue una certa logica o che alla fine immaginatevi quando parliamo di gialli quando si ricostruisce tutto il delitto pur avendo tantissimi tasselli sparsi poi la alla fine risulta sempre estremamente logico se è un buon giallo se non lo è chiaramente lo notate subito perché non ha senso la vicenda poi deve essere equilibrata e coerente dal punto di vista logico chiaramente ma deve avere anche il suo ritmo che sia un ritmo lento un ritmo molto incalzante il ritmo può essere diverso non deve essere per forza uguale per tutti può essere un ritmo anche magari interrotto da elementi contemplativi eccetera quindi procedere più lentamente come può essere molto più serrato molto più veloce molto più rapido la vicenda può essere poi integrata da colpi di scena che rialzano l'attenzione del lettore che smuovono chiaramente le acque donano al lettore degli aspetti che non aveva valutato e che fino a quel momento non si era aspettato e quindi che da un lato facciano procedere la vicenda in maniera organica però dall'altro lato riescano a ravvivare anche l'attenzione del lettore e quindi a rivalutare alcune considerazioni che prima aveva stabilito bisogna capire riguardo alla vicenda che noi stiamo leggendo che cosa racconta quella storia quali sono i passaggi cruciali della vicenda e se la macchina narrativa funziona se l'impostazione della narrazione è efficace per noi lettori che da un lato ha una componente personale ma dall'altro ha una componente più oggettiva che magari a noi personalmente non fa impazzire ma che comunque fila che comunque ha un suo perché bisogna capire se tutti gli ingranaggi di questa macchina sono nel posto giusto bisogna capire se funzionano bisogna capire se girano e se girano nel modo giusto il lettore di un testo chiaramente è in grado di seguire il filo di un ragionamento se ne riescono a individuare i passaggi fondamentali e le ragioni che lo strutturano e quindi che lo motivano e noi mentre leggiamo una trama iniziamo a crearci una mappa mentale a volte se non ci viene spontaneo è utile proprio scrivercela è utile iniziare a disegnare a strutturarcela su un foglio e prendere appunti è una sorta di mappa concettuale mentale di tutti gli avvenimenti e di tutti i vari passaggi fondamentali noi chiaramente leggendo capitolo per capitolo oppure addirittura le parti di un libro stesso possiamo individuarne alcuni eventi che siano uno che siano tre che siano cinque fondamentali che sono i passaggi più importanti ai fini della narrazione all'interno di essi all'interno di questi passaggi fondamentali poi magari vengono accolti molte più azioni molte più molti più sviluppi ma ai fini della sintesi per la processione della trama possiamo sempre individuarne molti meno possiamo sommarli e di solito io mi pongo tantissime domande quindi qua ci sarà la sbrodolata di tutte le domande che mi pongo mentre leggo perché ho cercato di razionalizzarle mentre leggevo perché è veramente difficile cercare di spiegare un processo che io ho talmente interiorizzato che non ho nemmeno mentalmente chiaro cosa succede quindi mentre leggevo mi sono appuntata non cosa stavo leggendo ma quali domande mi pongo quali sono i miei ragionamenti ho cercato di razionalizzare un qualcosa che per me non è razionale è stato difficilissimo quindi di solito cosa mi chiedo quali sono le idee principali della trama e come posso trovarle cioè come mi vengono esposte quali sono i perni della narrazione il problema di fondo le tematiche che vengono affrontate e questo mi aiuta ad identificarne le idee principali del lavoro dell'opera e ad analizzarle nella struttura quindi sapere che le idee sono queste le tematiche sono queste vengono espresse in questo modo mi aiuta un attimo a ricostruire la struttura della trama l'esposizione e a capire se una cosa funziona o non funziona almeno dopo ci arriviamo come vengono presentate queste idee ci sono tecniche diverse che gli scrittori utilizzano per proporre a noi lettori la struttura per proporre le idee alcune cose possono avvenire tramite i dialoghi tra i personaggi attraverso degli spiegoni attraverso un narratore esterno che ci spiega tutto attraverso un preambolo a volte proprio seguendo ciò che avviene durante una scena e capendo che ci sono alcune tematiche che emergono proprio da un conflitto oppure da una situazione che accade davanti agli occhi del protagonista o dei protagonisti che seguiamo insomma le tecniche sono numerose come vengono sviluppate queste idee venendo alla scrittura proprio ci sono degli elementi molto soggettivi invece elementi che assolutamente non lo sono come vi ho già detto prima la grammatica non è qualcosa di soggettivo ci si può muovere all'interno di uno spazio ristretto ma non si può andare oltre non è un'opinione ciò che viene scritto ciò che viene espresso ha un senso logico le subordinate la struttura grammaticale l'esposizione del testo è grammaticalmente corretta e questa è la prima parte la parte più soggettiva invece ci porta a chiederci l'esposizione grammaticale la parte diciamo legata all'essi il senso logico che acquisisce la frase tutta la struttura che noi abbiamo appena letto è efficace per noi è efficace invece ad un livello più ampio che magari è al di là del nostro gusto e ribadisco di nuovo scusatemi ma lo dirò forever la grammatica non è discrezionale ripeto non è discrezionale finché si rimane dentro certi limiti e a meno che l'intenzione di questi autori di questi scrittori sia quello di scardinare tutta la grammatica che allora lì tutta la parte diciamo strutturale della lingua e allora lì è un grande esperimento può riuscire come non riuscire ma non tutti sono carver non tutti hanno questo talento e non credo nemmeno che sia l'intenzione di metà degli scrittori young adult che esistono né nemmeno di quelli fantasy che esistono in circolazione se non rarissime eccezioni quella si chiama incapacità poi chiedetevi la scrittura da che punto di vista si pone qual è il punto di vista innanzitutto e da che punto di vista esprime i concetti ha un'esposizione neutra è come se fosse dentro la testa di un personaggio ha già un filtro per il lettore cioè ciò che noi leggiamo viene visto secondo gli occhi dell'autore secondo gli occhi di un personaggio che magari ha una determinata esperienza oppure magari è l'autore l'autrice che ci inculca una determinata visione oppure siamo noi che dobbiamo decidere cosa pensare di un determinato evento e quindi ha un'esposizione più neutra dove sta lo sguardo del narratore è uno sguardo esterno è uno sguardo interno è uno sguardo come se fosse nel mezzo ha un coinvolgimento personale dal punto di vista della scrittura o è come se fosse uno spettatore io mi chiedo infatti qual è il contesto dell'argomentazione dell'autore e perché può aver sentito la necessità di esprimere un determinato concetto o di averlo sostenuto in una determinata maniera mi chiedo se l'autore offre una soluzione a tutti i problemi che vengono presentati lungo il corso del testo o se rimangono questioni in sospeso e in più mi chiedo anche se questa soluzione proposta sia realistica sia efficace sia spontanea sia una forzatura mi chiedo tante altre cose che ora non mi vengono in mente oppure la soluzione che ci offre l'autore sia irrealistica sia forzata sia sbagliata sia troppo lontana dai desideri del lettore che questo può non essere un problema oppure che ciò che ha fatto è comunque irrealistico è fuori dalla logica e la logica all'interno di un romanzo è data spesso dalla coerenza tantissimi aspetti legati alle problematiche della scrittura quasi sempre saltano immediatamente all'occhio o almeno io spero sempre ma per tantissimi ad esempio non è così lampante perché magari non hanno dimestichezza con lo stile la prima volta che si approcciano a un autore o a un'autrice e hanno bisogno un po' di elaborare e per questo di solito io consiglio non so a chi ma lo consiglio a voi su questo video di fare degli step quindi di avere una tappa intermedia al 25% del libro mettere giù una serie di idee una serie di appunti che vi siete fatti mentalmente quindi fare un punto di quello che avete appena letto poi farne un'altra metà per capire se alcune premesse sono state mantenute se si è evoluto in maniera diverso da ciò che erano le premesse iniziali se il corso della narrazione sta per voi prendendo un aspetto logico se sta perdendo coerenza diciamo se sta prendendo per voi una piega che è sensata è logica è piacevole ed è efficace che queste sono tutte considerazioni che poi secondo me hanno senso poi rivalutare alla fine cioè alla fine si può davvero avere una visione di insieme chiamiamola così di tutto il test e quindi si ha una visione molto più ampia di quello che si è letto infatti bisogna da un lato riuscire a staccarsi dalla componente più personale più emotiva e cercare di avere una visione un po' oggettiva di quello che si è letto non che la parte soggettiva la parte più emotiva la parte più coinvolta nel libro non debba esserci anzi però quello fa parte delle considerazioni personali prima bisogna valutare il test in maniera un po' più oggettiva quindi valutarne la struttura l'esposizione la trama le scelte che ha compiuto l'autore o l'autrice per il test che abbiamo appena letto valutiamo sia i passaggi singoli sia la struttura più ampia l'impianto narrativo nel suo complesso quindi sia le scelte singole ma anche come le scelte singole vadano ad inficiare sulla struttura generale le scelte che ha intrapreso l'autore o l'autrice funzionano per noi da un punto di vista un po' più distaccato sono oggettivamente efficaci la disposizione delle azioni che schema segue è uno schema ordinato è uno schema disordinato è uno schema casuale è uno schema dove le azioni e le grandi svolte avvengono per caso avvengono secondo un piano molto più dettagliato una conseguenza logica le scelte che vengono intraprese sono scelte che effettivamente fanno procedere la trama in una maniera forte in una maniera fluida in una maniera sensata oppure sono scelte dettate unicamente dal caso dettate dalla mancanza di idee insomma le domande che ci possiamo porre in questa fase sono tantissime questa impostazione della narrazione riesce a soddisfare le premesse iniziali gli obiettivi che ha il narratore nell'esporci un determinato tema una determinata idea ma non solo riesce a risultare efficace per il lettore che lo riesce a seguire bene riusciamo a seguire bene quello che abbiamo letto risulta tutto chiaro e poi possiamo chiederci anche cose più personali per noi questo metodo narrativo risulta efficace risulta appassionante risulta avvincente risulta trascinante insomma è uno stile di scrittura che secondo noi è efficace queste sono cose che ovviamente sono più personali ma contano mentre leggiamo è chiaro che tra una componente mi sono sentita tantissimo trascinata e è un disastro da tutti gli altri punti di vista cioè dopo bisogna un attimo trovare una mediazione tra parte oggettiva cioè parte razionale e parte irrazionale ma questo questo mi porta poi a parlare dell'aspetto più soggettivo cioè ciò che riguarda ovviamente lo stile perché se la scrittura da un certo punto di vista dei parametri oggettivi che noi non possiamo svalicare o comunque diciamo che è molto difficile essere efficaci nello scardinare delle regole grammaticali lo stile rimane invece la parte più soggettiva della scrittura come l'autore organizza le frasi con che ritmo le espone come le espone con quale sonorità o anche come decide di impostare la narrazione come imposta le scene come le fa proseguire se è una narrazione lineare se è una narrazione molto più frammentata che va a ricostruirsi man mano se c'è un unico punto di vista se ce n'è più di uno se ci sono tante azioni in contemporanea o se c'è un'unica storia che prosegue insomma noi possiamo apprezzare a livello personale tanti aspetti diversi ci sono ovviamente dei metodi che per noi personalmente in questo modo è un appunto molto soggettivo risultano più efficaci di altri ci sono altri che invece a noi tediano a noi infastidiscono a noi non piacciono e quindi magari anche se da un livello oggettivo sono corretti e tutto non risultano efficaci per noi in più è utile è importante identificare i riferimenti utilizzati per questo ovviamente sarebbe molto utile avere una buonissima base sia di classici e qua non aprirò una parentesi ampissima ma anche di tante cose vicine nello stesso ambito nello stesso genere contemporane precedenti insomma ci sono tante cose che possono aiutarci non solo a fare dei collegamenti con altre opere ma anche un un richiamo spesso ad esempio faccio un esempio banale ultimamente è chiaramente il periodo dove i retelling abbondano e spesso anche i riferimenti all'opera originale sono molto utili ma anche capire come lo scrittore o la scrittrice richiama le emozioni del lettore quali espedienti utilizza come fa l'autore a spiegare le proprie ragioni le proprie motivazioni il proprio obiettivo quali sono probabilmente le tecniche che il nostro narratore utilizza per sostenere le proprie tesi e se noi in queste tesi ci riconosciamo ce le sentiamo imposte ci ritroviamo nel modo in cui si sviluppano e se per noi queste sono credibili o attendibili infine dobbiamo chiederci se ciò che abbiamo letto ci è stato esposto in maniera chiara precisa e coerente se quello che abbiamo letto ci ha dato anche un richiamo emotivo se per noi è stato emotivamente impattante o ci ha smosso qualcosa magari dal punto di vista più emotivo la componente emotiva rimane importante nei libri non significa per tutti la stessa cosa non significa immedesimarsi non significa per forza rivedersi in un personaggio ma spesso significa imparare l'emozione di qualcuno che noi non conoscevamo vedere come una certa situazione abbia creato una serie di conseguenze anche per i personaggi che a noi ha colpito e poi perché quello che è successo all'interno della narrazione anche dal punto di vista emotivo per noi sia stato o non sia stato coerente se sia stato logico se sia stato possibile e in questo quanto è stata efficace l'esposizione dell'autore quanto è stato bravo l'autore a bilanciare l'autore o l'autrice chiaramente a bilanciare l'aspetto tecnico l'aspetto dell'esposizione della trame della sua storia con l'aspetto anche emotivo i messaggi della storia sono stati chiari o non lo sono stati perché chiaramente questi sono aspetti che variano da persona a persona perché sono un po' più soggettivi anche se chiaramente se l'autore è stato efficace o meno chiaro o meno è lampante un po' per tutti quella è una questione magari più oggettiva però per noi possono risultare componenti più o meno forti io ad esempio non ricerco sempre l'immedesima azione nei personaggi anzi a me piace immergermi in un personaggio che magari non conosco non ha la mia storia non ragiona assolutamente come me ma che comunque risulta efficace risulta credibile risulta coerente non ho assolutamente questa pretesa ci sono invece altre cose che a me non piacciono assolutamente che se mi seguite da un po' che mi avrete sentito dire e ridire milioni di volte perché sono sempre lì sono le cose che a me non piacciono a me ad esempio non piace mai quando i narratori raccontano 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 e non mostrano mai ovvero magari si racconta che un personaggio è questo e quest'altro che ha fatto questo 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 e quest'altro e poi quando dovremmo vedere questi aspetti del personaggio in azione noi non li vediamo mai questa è proprio una delle classiche cose che a me fa uscire fuori di testa e che mi fa odiare i libri come ad esempio l'uso delle estremizzazioni per ogni avvenimento come se ogni avvenimento fosse questione di vita di morte come se ogni avvenimento fosse sentito in maniera così ampia e amplificata dai personaggi dalla trama eccetera e che quindi a una certa tutto è talmente amplificato che nulla ha fondamentalmente senso nulla fondamentalmente valore all'interno della narrazione come non mi piace quando usano tantissimo metafore paragoni o espedienti retorici frasi ad effetto chiamiamole che fondamentalmente non vogliono dire nulla l'odore della mezzanotte che cosa vorrebbe dire per me vuol dire tante cose per voi magari ne vuole dire molte altre cose di questo tipo ad esempio e via dicendo insomma dopo qua l'elenco è lungo e un'altra cosa che a me non piace sono ad esempio gli spiegoni gli spiegoni è raro che fondamentalmente siano efficaci all'interno di una narrazione a volte bisogna fare una regressione storica e quindi lo spiegone ci può stare raramente ma spesso lo spiegone si sostituisce all'incapacità del narratore di far procedere la trama in modo da inserire questi elementi oppure in modo che la trama includa questa spiegazione che risulti chiara al lettore che il lettore la possa vedere è molto difficile che gli spiegoni siano efficaci e a me ad esempio non piacciono niente io direi che vi ho fatto qualche esempio di cose che a me non piacciono però insomma spero che questa sia stata una puntata un po' più chiara rispetto alla precedente e che io vi posso aver dato qualche spunto per approcciarvi al testo in maniera un po' più critica e che riguarda la struttura alla trama e alla parte lessicale grammaticale eccetera l'esposizione possa risultarvi utile per le vostre prossime letture fatemi sapere cosa pensate di quello che vi ho detto e insomma vi ho posto un sacco di domande che spero siano utili durante la lettura e anzi spero davvero che questo sia un video utile niente io spero di sentirvi giù nei commenti così mi fate sapere cosa ne pensate e se sono cose che vi chiedete se ci sono altre cose che invece vi chiedete durante la lettura sono molto curiosa e niente io come sempre vi ringrazio per aver trascorso un po' di tempo insieme a me e niente direi che per questa serie ci vediamo alla prossima puntata e per tutto il resto al prossimo video ciao ciao